bella a tutti ragazzi sono davvero benvenuti su Ghibli channel su project hospital allora ragazzi siamo al giorno 21 sono le otto e mezza di sera e abbiamo sempre pochi soldi quindi dobbiamo assolutamente guadagnare un pochetto allora qua avevamo fatto il ricovero e la terapia intensiva anzi subintensiva per il nostro reparto di ortopedia mi servono delle altre stanze quindi vorrei completare il nostro reparto di degenza così almeno abbiamo tutte quante le stanze a posto perfetto che non si sa mai nel caso dovesse servire almeno abbiamo il posto per i nostri pazienti così non avranno diciamo problemi perfetto allora quindi andiamo a mettergli dei letti normali perché purtroppo come detto non ho tanti soldi quindi non posso mettergli diciamo i letti quelli super fighi però vabbè insomma è un reparto di degenza quindi si accontenteranno del letto normale anche perché eventualmente gli metto piuttosto la televisione in camera che magari sono più contenti perfetto andiamo a mettergli i vari defibrillatori ottimo così e poi vediamo di switchare fino al mattino e cercare di guadagnare un po' di soldi allora al momento stiamo facendo tanta paziente al giorno purtroppo due non sono riuscito a soddisfarli nel senso che hanno aspettato troppo alla fine si sono stufati e se ne sono andati perché nonostante io abbia comunque tantissime stanze e abbia raddoppiato tantissimi laboratori piuttosto che per l'appunto stanze di vario tipo analisi di vario tipo non riusciamo ancora a soddisfare tutti perché comunque insomma più di 80 pazienti al giorno sono veramente tanti peraltro me ne possono arrivare in realtà fino a 130 quindi perché 130 è il numero di pazienti inviati dalle compagnie assicurative quindi allora andiamo avanti fino al mattino come detto ragazzi io vorrei concludere questa serie ecco qua che come al solito qualcuno mi collassa mannaccia la miseria vabbè questo è già ricoverato qua quindi niente dovranno andarlo a sistemare dicevo vorrei concludere questa serie mettendo appunto la traumatologia che il reparto del dlc che non ho ancora mai provato lo voglio fare però a un piano ancora superiore perché il reparto questo gli diamo l'urgenza visto che sta aspettando tanto questa idem come sopra lettino richiesto in gessatura arte inferiore occupato a ok che devo fa pure questo uguale perfetto come detto è la maronna tutti poi il reparto di ortopedia è una cosa impressionante cioè veramente arrivano tutti con le ossa rotte arrivano veramente tutti con le ossa rotte ma che devo fare io cioè ragazzi più di questo ma andiamo a vedere come sta messo il reparto sopra ma a me non sembrava così così incasinato però vediamo un attimo dicevo il reparto appunto di traumatologia quello del dlc e il reparto che comprende anche l'elicottero perché per l'appunto arriveranno i casi più gravi in assoluto di conseguenza vorrei ovviamente cercare insomma di farlo al piano superiore dove dove ho il tetto così in modo da avere chiaramente lo spazio per diciamo per poter far atterrare l'elicottero perché lì ci arriveranno in casi più gravi quindi ovviamente dobbiamo averlo va bene allora niente proviamo ad andare avanti sì perché le ortopedia effettivamente ho solo un ambulatorio e mi sa che dobbiamo aumentare chirurgia laparoscopica va bene toppigliati l'urgenza vediamo se così ti basta per riuscire a essere curato lunga non c'è un letto libero ma dove a questa c'è la rabbia addirittura cioè quindi non abbiamo seriamente un letto libero qua nelle malattie infettive ma mi sembra strano mi sembra strano no invece sono tutti occupati va beh allora facciamo una cosa visto che qua i letti sono tutti occupati e in realtà il reparto di isolamento lo sto usando molto poco nel senso che in isolamento mi arrivano massimo uno o due pazienti come vedete adesso io eventualmente faccio una bella cosa queste ultime due stanze le trasformo in reparto d'agenza normale perché effettivamente non ha molto senso tenerle così quindi gli vado a togliere sto macchinario che tanto non gli serve e gli metto semplicemente un comodino qua perfetto così almeno abbiamo effettivamente le stanze per poterli trattare poi ecco un'altra cosa che volevo fare visto che anche il reparto di ortopedia è preso veramente d'assalto e anche qua ho tutti i letti pieni vi ricordate l'altra volta abbiamo un attimo faticato per riuscire a mettere qualche letto in più e comunque sono tutti già impegnati e anche qui la stessa cosa ragazzi qua il reparto diciamo normale di degenza quello in medicina generale ma vedo che queste stanze qua non me le occupano assolutamente mai né queste né tantomeno queste nel senso non ho mai così tanti ricoverati insieme quindi io inizierei eventualmente anche qualche stanza qua a trasformarla in reparto di degenza dell'ortopedia così facciamo un po' ortopedia e un po' quella normale perché se no sinceramente non non ce la faccio peraltro ha già tutto quello che gli serve perché comunque reparto di no scusa che di degenza che cacchio ho fatto no mi sembrava strano no il reparto di tss reparto di degenza non me ne frega niente parto di degenza ne abbiamo già fino a mai no devo farlo come terapia intensiva e infatti adesso mi serve il monitor questo qua perfetto ok così almeno adesso abbiamo tre posti in più giusto sì perfetto abbiamo tre posti in più così che riusciamo a ospitare qualche paziente in più perché come avete visto ragazzi arrivano tutti con le ossa veramente sfrantumate ecocardio ok lei ha bisogno dell'ecocardio io l'ecografia ce l'ho in cardiologia quindi teoricamente dovrebbero fargliela ecocardio anche lui e che cacchio ma tutti l'ecocardio ma scusami scusami un attimo ecocardio io dovrei averla la sala qua no se non ricordo male sì ce l'ho qua la sala con due dottori anche quello notturno vabbè faccio un altro ecocardio qua a sto punto visto che ho giusto una stanza libera posso fare tranquillamente dove cacchio sta dove cacchio sta eccolo qua unità di ecografia unità però di ecografia la cardiologia mi fa l'ecocardio scusa un attimo aspetta cos'è che mi fa l'ecocardio fammi capire c'è l'ecocardiografia urgente dove sta ecocardiografia urgente vediamo ecografo fast va bene reparto ti a nel reparto ti quindi non nella cardiologia è no perché infatti lui allo stemmino non di cardiologia quindi non mi serve a nulla reparto ti e questo qua normale che la terapia intensiva dovrebbe essere giusto dove sta allora non so quale sia sarà pronto soccorso potrebbe essere no ma pronto soccorso non credo però ma è perché mi dice reparto ti ma non capisco perché me lo dai in questo reparto qua scusa dove stai abbia pazienza un attimo e lui sta qua ricoverato ok dove cacchio mi deve fare perché mi dice reparto ti ma reparto ti dovrebbe essere terapia intensiva in linea teorica di conseguenza a meno che non sia qua no scusami in questo vuol dire che qua è sì il reparto ti a eccolo qua ok tra più intensiva e sì esatto esatto assistenza medica e però reparto ti io ce l'ho scusami ho anche parecchi no la parte che lui è già nel reparto terapia intensiva quindi che cacchio vuoi ma io non lo capisco questo vabbè vabbè niente beh in ogni caso un'altra cosa di come si dice di ecografia qua mi può essere utile in ogni caso perché comunque un'ecografia potrebbe sempre essere utile anche perché fanno ecografia in genere cioè non è comunque almeno non dovrebbe essere riservato solo alla cardiologia ma queste stanze qua vengono utilizzate comunque per questo tipo di esami quindi possono interessare la cardiologia come altri reparti da quanto mi ricordo poi eventualmente fatemi sap se mi sto sbagliando però teoricamente dovrebbe essere così quindi fare comunque anche qualche stanza in più di queste non è mai assolutamente male allora quindi ti metto una lampada qua perfetto ti metto il suo mobiletto qui ti metto il cestinozzo qua mi serve quindi poi la scrivania mi serve o sgabellino che mi serve il computer la solita stampante e gli mettiamo anche una sedia per il paziente così la diagnosi se la sente almeno seduto perfetto manca questo e dovremmo essere a posto ottimo così abbiamo anche questo allora scegliamo quindi il doc ovviamente deve essere un ecografo va beh qualcuno di cazzuto ce l'abbiamo 42 questo potrebbe andar bene e di notte chi ci metto questa nicole che ha 35 non è comunque malaccio dai non è malaccio allora riusciamo ad andare fino a mattino cortesemente laddove laddove mi fosse possibile adesso qua scatta la mezzanotte e ci dovrebbe aggiornare con la situazione che abbiamo fatto comunque nella giornata 87 pazienti ne abbiamo persi persi nel senso che se ne sono andati solo due allora brutta stagione le temperature basse fanno sì che il 10 per cento i pazienti in più si reichi in clinica ok quindi c'è periodo periodo di influenza insomma fondamentalmente ok vediamo di andare avanti adesso è quasi luna di notte in gioco perfetto lunga attesa chirurgia delle fratture arti inferiori vediamole ovviamente la precedente senza vediamo se riescono a operarla quasi spaccano tutti le ossa veramente una cosa imbarazzante quindi ragazzi come detto adesso l'idea visto che abbiamo fatto e abbiamo completato direi il reparto di cardiologia anche lui stessa problematica quindi facciamo così in realtà vabbè devo solo ampliare la zona di terapia subintensiva sempre dedicata alla cardiologia però per il momento abbiamo già cinque letti due sono occupati ma gli altri per adesso sono ancora anzi tre sono occupati uno si vede che sta facendo un esame abbiamo due letti liberi però abbiamo tutto lo spazio comunque per poter mettere nuovi letti quindi quindi in realtà questo sta per andarsene diamogli la priorità sta aspettando il test non c'è una diagnosi certa ok è solo che io non ti posso fare altri esami quindi o te la sparo a caso 33 direi che è un'ulcera sì sì vai fidati fida fidati che te lo dico io no dicevo quindi l'unica cosa che palle però dai chirurgia e ho capito mettigli chirurgia cardiovascolare questa la cardiologia scusa da chi è occupato fammi capire un attimo da chi cacchio è che occupata la sala operatoria della cardiologia bipazienza un secondo dove sta aspetta ogni tassa l'operatoria quella col simboletto quello lì dove sta la sala per 2 che l'ho messa io la sala operatoria qua l'ho messa in realtà e non c'è nessuno dentro tutto buio tutto triste quindi questo è morto qua l'hanno abbandonato qua ci sono anche le luci spette ma i miei medici dove dove stracacchio sono i miei medici scusatemi la mettiamo un altro dottore anche di notte va che secondo me può servire mettiamo neanche un altro ancora ok però nella sala la queste infermieri la sala medici e io in realtà ci ho pronto tutto mettiamo magari un altro chirurgo anche di notte perché non so se ce l'ho quindi mettiamo un chirurgo di notte così almeno almeno dovremmo teoricamente essere a posto chirurghi vabbè uno su uno in realtà ne abbiamo due a no il notturno devo guardare e il notturno c'è tutto tre dottori o due chirurghi due anestesisti un infermiere e c'è tutto infermieri di chirurgia 1 ok 1 su 0 anche senso alla richiesti sì ma dovrei averlo no vabbè mettiamone mettiamo un infermiere cos'è che infermiere di chirurgia dovrebbe essere questo qua va bene assumo un altro anche qua di notte così almeno ce l'abbiamo no ne avevo già uno infatti adesso sì ne abbiamo due perché richiesti zero vabbè però adesso comunque ne abbiamo due e quindi teoricamente dovrebbero a forse stanno andando adesso a preparare la sala operatoria sì no questa è quella delle pulizie vabbè comunque dicevo quindi vorrei appunto alzare visto che adesso il reparto di cardiologia praticamente finito a parte magari mettere qualche letto in più in terapia in terapia subintensiva però a parte questo vorrei per l'appunto alzarmi di un piano e andare a fare per l'appunto la traumatologia che è l'ultimo reparto che vorrei fare quantomeno come detto in questa serie più che altro non riesco ad andare avanti oltre quel reparto non per mancanza di voglia mia perché sapete questo è un titolo che veramente adoro perché è fatto secondo me da dio sto gioco qua il problema ed è un problema purtroppo noto di questo titolo è che diciamo andando avanti a mettere sempre più personale vedete che abbiamo un limite di 400 siamo già a 260 assunti 259 diciamo che il gioco tende a faticare sempre di più a girare oddio che cacchio è mi è collassata una sì mi è collassata una qua per terra vediamo se c'è a fanno andarla a salvare e di conseguenza diventa praticamente impossibile riuscire a fare tutti i reparti nel senso che c'è anche una mod volendo che toglie questo limite dei 400 dipendenti totali problema è che ho visto anche un po di video a riguardo sono andato su un po di forum appunto a vedere la situazione problema è che inserendo questa moda è vero si ti toglie il limite ma se vai ad assumere sopra i 400 dipendenti il gioco diventa praticamente ingiocabile cioè va tipo a due frame al secondo diventa una cosa assolutamente ingestibile di conseguenza non avrebbe senso piuttosto valuterò eventualmente più avanti magari di fare una nuova stagione dove ci concentriamo su tutti quei reparti moddati che invece non abbiamo visto per l'appunto in questa stagione quindi quello di diagnostica quello diciamo la chirurgia estetica il nefrologo piuttosto che l'otorino la lingoiatra insomma tutti questi reparti che per l'appunto non abbiamo visto e non abbiamo potuto vedere in questa stagione però la traumatologia la vorrei fare perché invece quello è proprio un DLC a pagamento che trovate su steam per quello che ho visto adesso dei DLC anche quello delle malattie infettive fatto veramente veramente bene anche a livello appunto di accessori pareti tutte queste pareti qua con il ricircolo dell'aria eccetera cioè ragazzi come gioco è veramente curatissimo nei minimi dettagli di conseguenza tutti i DLC che ho provato finora sono tutti straconsigliati a parer mio volevo provare per l'appunto anche l'ultimo DLC che mi manca ovvero quello della traumatologia però ribadisco avendo per l'appunto in dotazione l'elicottero e lo vediamo già da qua perché se andiamo nella parte delle ambulanze vediamo che qua abbiamo appunto l'eli ambulanza a parte il fatto che costano sboato perché costa 86 mila dollari ma a parte quello ovviamente ha bisogno del tetto per poter atterrare in realtà non nel senso che potrei mettergli diciamo così il posto per l'atterraggio in qualsiasi punto anche a livello terra diciamo però non avrebbe molto senso quindi sinceramente preferisco farlo sul tetto con il suo elicottero che a terra porta giù il paziente secondo me è la cosa assolutamente migliore lunga attesa per il trasporto dove è questa ma io infermieri lì ho in realtà fammi vedere infermieri di notte nel reparto di ortopedia come si è ammessi però teoricamente ne abbiamo solo uno effettivamente assumiamone qualcun altro perché oggettivamente può servire quindi fammi far così allora vai questa va bene assumiamo anche un altro qua così almeno così almeno siamo a posto e non si dovrebbero lamentare abbiamo un po di infermieri perfetto sì dai così secondo me bastano anche questi qua dire che vanno bene a bene avevamo altri due di qua vabbè vabbè comunque tanto male non fanno in questo modo vediamo il problema è che alzare mi sa di un piano non mi ricordo cosa costa ma ho idea che costi parecchio coppa pavimento al piano superiore i muri sì che potrei anche copiare tutto così com'è però non so se mi costa tanto meno perché non non me lo specifica qua effettivamente vabbè adesso poi eventualmente si può sempre provare allora il pavimento sì magari muri eviterei occupiamo anche i muri vabbè se non occupiamo anche i muri al massimo dove dove non mi serve li togliamo eccolo qua perfetto così abbiamo già qua l'ascensore ottimo e andando ancora sopra qua per l'appunto abbiamo il tetto ora io sul tetto potrei metterci teoricamente il dove a ricas a scarico ambulanza no però aspetta dove quello dell'elicottero c'era è quello apposta dell'elicottero se non erro però non mi ricordo dove sta bella domanda non mi ricordo assolutamente dove sta perché teoricamente ha però quando me lo fai mettere ma forse perché ti do mettere il pavimento e l'ambulanza posizionale unicamente nei piani eccessivi a perché non c'è l'ascensore ok va bene va bene va bene nel caso vediamo anche già un attimo giusto l'ascensore questo che roba ai prefabbricati ha già è vero che abbiamo anche tutti prefabbricati e quindi eventualmente una nuova stagione potrà anche utilizzare diciamo le stanze prefabbricate che effettivamente non sarebbe affatto male tra l'altro credo di avere anche prefabbricati per eh sì per la traumatologia così almeno li posso fare già posizionati tac li mettiamo così e chi si è visto si è visto direi che va benissimo almeno impiego anche decisamente meno tempo molto figa sta cosa non me la ricordavo assolutamente sì che poi forse l'avevamo vista all'inizio proprio della serie ma poi non mi ricordavo più eh dicevo quindi l'ascensore io teoricamente ne dovrei mettere uno a questo piano no cioè se io volessi fare la cosa sul tetto però perché non me la mette fammi capire o devo fargli effondamenta no eh oddio non so come fare qua la cosa ah no allora qua il pavimento me lo fa ok ma se io volessi fargli tipo un eh dove che sta piestrelle piccole pavimento a costruzione no vabbè mettiamo un pavimento bianco ad esempio fino a qua eh mazza lo spendo un fottio però 15.000 aspetta proviamo a farlo piccolino così dai 5.600 va bene no giusto per capire ma l'ascensore poi me lo fai mettere no non me lo fa mettere comunque le fondamenta no e quindi cioè io ho fatto un piano in più per un cacchio fondamentalmente ho fatto un piano in più per un cacchio perché io pensavo di poterlo far arrivare qua l'elicottero e invece mi sa di no invece mi sa di no quantomeno credo perché qua non me lo fa posizionare da nessuna parte è un bel casino vabbè fatemi sapere nei commenti eventualmente come si fa a mettere sul tetto perché io lo vorrei mettere sul tetto sinceramente cioè qua me lo fa mettere a parte che non ho neanche più lo spazio per metterlo onestamente non c'è più neanche il posto per metterlo a terra ma avrebbe più senso per me metterlo sul tetto cioè potrei anche metterlo qua vado avanti con le foundation male che vada dovrei poterlo mettere uguale cioè qua mi allargo creo uno spiazzo ok lo creo così e gli piazzo su il tutto perché qua in teoria dovrebbe farmelo mettere facciamo giusto questa prova ma teoricamente me lo dovrebbe far mettere no non può essere posizionato sotto altri piani è a perché è perché qua adesso mi ha copiato questo scusami spero dio non sto capendo non sto seriamente capendo no aspetta allora vai giù un attimo di un piano allora fai un secondo così togli queste no scusami come faccio a rimuovere fondamenta aggiungi i muri perimetrali demolisci tutto inclusi fondamenta esatto quindi questo me lo tiri via ok grazie vabbè qua il muro io ricostruisco non è un grande problema no volevo capire questa cosa è l'elicottero perché sinceramente è un bel casino è veramente un bel casino perché da meno che cioè se io gli faccio tipo delle fondamenta qua no quando me le fa fare però se li faccio sotto proprio anche lui mette il tetto giusto casino è quello perché se io ti costruisco delle fondamenta qua lui mi mette il tetto sopra e quindi un bel casino mi sa che o non dovevo fare il piano sopra e perché se no non saprei come farlo ragazzi a meno che non faccio un nuovo piano lo lascio vuoto e gli metto solo le di soccorso però non ha molto senso sinceramente cioè non è che non è che mi piaccia un gran che è fatto così vabbè fatemi sapere eventualmente fatemi assolutamente sapere diciamo se avete un metodo perché se no diventa abbastanza incasinata la faccenda perché il problema è che non me lo fa mettere neanche qua sopra cioè non può essere posizionata mezz'aria e si andrà ah no ma qua me lo fa mettere però no aspetta aspetta io ho speso una cifra no scusami ok me lo fa mettere qua sì però poi qua dovrei mettere comunque un ascensore dovrei mettere qualcosa su e anche qui non è che non è che ha molto senso adesso ho speso un casino per nulla per fare un elicottero che in realtà vabbè mi ha rimborsato qualcosina però vabbè poi recupero io giocando giocando off camera e non lo so perché allora qua me lo fa mettere però come ribadisco non ha molto senso sinceramente e per cui vorrei trovare una soluzione decisamente migliore ma decisamente migliore anche perché qua ok non ho lo spazio sì perché qua sarebbe sopra il tetto di questa ok e qua me lo fa effettivamente posizionare ok e quindi ecco perché non capisco come mai non me lo fa mettere sopra il tetto di questa non questo in teoria me lo dovrebbe far mettere però però qua non me lo fa mettere a meno che non devo comunque costruire un nuovo piano ancora non lo so vabbè sentirò eventualmente voi cosa mi direte a questo punto nei commenti detto questo ragazzi comunque quindi io vi invito come sempre mi raccomando a sostenere questa serie lasciando un sacco sacco di like condividete commentate iscrivetevi al canale se non siete iscritti e tenete la campanella delle notifiche per chi vuole dare un contributo concreto al canale come sempre lo può fare attraverso gli abbonamenti youtube oltre a ragazzi sotto di ogni mio video detto questo giovinotti io vi ringrazio vi saluto e ci picchiamo nei prossimi gameplay ciao belli